Bracce incrociate questa mattina per i lavoratori della cooperativa Erone che gestisce a Biancavilla il servizio degli ausiliari al traffico. Davanti al palazzo comunale chiedono il pagamento degli stipendi arretrati. Sono due le mensilità in arretrato, una situazione purtroppo che si ripete ormai da diverso tempo e dieci lavoratori stanchi hanno deciso di far sentire la loro voce. Appoggiati dal sindacato Filcam CGL, oltre a chiedere l'erogazione delle spettanze, chiedono anche l'applicazione del contratto di lavoro e del capitolato d'appalto. A questo si aggiungono anche l'esame della riduzione del contratto di lavoro a tutti i dipendenti che dovrebbero passare da 18 a 10 ore settimanali e la modifica dei livelli di inquadramento. Dall'altra parte l'amministrazione comunale, come ha detto il sindaco Pippo Glorioso, non ha responsabilità, non ha pagato fatture di servizi, non è questo il contratto. La cooperativa non paga per negligenza propria, noi li chiameremo alle giuste responsabilità e se saranno in grado di proseguire il servizio bene, altrimenti si passerà alla rescissione del contratto. In ogni caso, conclude Glorioso, ci preoccupa la situazione dei lavoratori e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità.